Il girone che interessa il nostro direttore. Allora, per quanto riguarda la giornata odierna, l'Ebolitana, la Casertana e il Forza e Coraggio, operazione riuscita. Vengono i risultati della classefica. Quindi per la serie D andiamo al girone I. Ebolitana, Tredi Conola, 7 a 0. A Cireale, Città 9 a 0, 1. Messina e Forza e Coraggio, 0, 1. Modica, Interregio, 0 a 0. Sapri, noto, 3 a 1. Nissa, Rocera, 1 a 1. Rossanese, Sambiase, 1 a 0. Mazzara, Marsala, 3 a 4. Casertana, Turris, 1 a 0. Mentre riposava, Grecanica. Per la classifica, conduce l'Ebolitana, 46. Segue Casertana, 42. Forza e Coraggio, 41. Nissa, 40. Grecanica e Sapri, 33. Sambiase, 32. Turris, 31. Noto, 29. Interregio, 28. Nocera, superiore, 27. Città 9, 25. Messina, 23. A Cireale, 20. Marsala, 19. Modica, 17. Mazzara e Rossanese, 14. Atletico, Nola, 6 punti. E quindi abbiamo detto i risultati. Abbiamo capito. Dopo 20 giorni che abbiamo ripreso, praticamente, c'è stato qualche problema. Va bene. Allora, dobbiamo parlare del girone. Tutti temono le siciliane, ma in tante tre campane stanno monopolizzando il girone. Io vorrei essere abbastanza contrario. Nel titolo iniziale tu hai messo in evidenza che è una lotta tra Ebolitana e Casertana. Adesso, giustamente, mi hai fatto bene a non dimenticare della Forza e Coraggio, ma non dimentichiamoci del Nisse. Ecco, al momento sono queste le quattro squadre che si giocano la vittoria finale. Mi aspettavo qualcosa in più dalla Valle Grecanica e dallo stesso Sambiase. Sono venuti un po' meno. Ma una cosa vorrei così farvi notare. Guardate quanti punti ha la prima in classifica del girone G e del girone H. Guardate quanti punti ha la prima in classifica di Ebolitana e quanti punti ha la seconda in classifica del girone A. del girone I. Quindi vi renderete conto di quanto questo campionato sia difficile, di quanto questo campionato sia bello. Perché, visto che ci sono molte squadre, a differenza di altri gironi, dove forse alla fine la lotta è ristretta solo a due formazioni, questo girone è molto affascinante. Credo che si risolverà nelle ultime tre partite. Voi anche per l'intreccio di calendario che c'è con scontri diretti tra le prime quattro. Fermo restando che la Turris può essere un po' insieme con la Valle Grecanica, ma soprattutto la Turris, l'ago della bilancio di questo campionato. E' una formazione molto forte, che è stata rinforzata ancora di più con l'arrivo di Nicola Pennone, una formazione che punta alla vittoria della Coppa Italia di categoria e è arrivata nelle semifinali, ma una formazione che veramente può essere l'ago della bilancia per così incidere, in un certo qual modo, sulla squadra che vincerà il campionato. Gigi, io sull'ultima puntata dissi che ormai il campionato sarebbe giocato in un altro campionato, cioè in un campionato o nel campionato, tra gli scontri diretti, fra di voi, è là che si deciderà il campionato. Ho detto, manca farlo apposto, ci saranno un po' nelle ultime giornate, però bisogna... Per intanto la Turris l'hai tolta da mezza, oggi con la sconfitta di oggi, scusate, non me ne volete Torrisi per l'amor del cielo, però penso che... La gara di oggi... Sì, le tre squadre davanti, è impossibile arrivare. La gara di oggi era un po' un crocevia, soprattutto per noi, fondamentale per il proseguo del campionato. Forse c'è stata troppa tensione, si scontravano le due squadre che hanno i due migliori attacchi della categoria, del girone, e i due tra i migliori attacchi dell'intera Lega di Lettanti. È venuto fuori un risultato streminzito, 1-0, tra l'altro poi determinato anche da un calcio di rigore concesso a nostro favore, netto, poi dopo vedremo con Gargiulo. Però è stata una partita dove i due migliori attacchi sono stati completamente annullati dalle due difese. Di occasione ce ne sono state ben poche, sia da una parte che dall'altra. Lamentiamo noi, è stato un tiro di Sarli che è finito praticamente sotto la traversa e poi non so se è rimbalzato al di là o al di qua della linea bianca, però comunque non è finito in rete. A parte questo poi non ricordo nessun altro tipo di occasione. Sono state le difese e le hanno fatte da padrone in questa gara. Noi aspettavamo il filmato da Caserza, sinceramente, perché abbiamo avuto dei problemi anche con l'internet. Praticamente, purtroppo, le immagini le vedrete domani mattina su Facebook e su YouTube, che ve le metterò. Purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà con l'internet, anche perché mi dicono perché tutte queste difficoltà, lo vogliamo dire. In definitiva ci sono stati fatti dei lavori qua in nostro studio, lavori logistici. Questo ha fatto sì il montaggio e smontaggio. Venerdì non c'era niente, oggi abbiamo trovato tutto, però qualche picca l'abbiamo. Comunque, domenica prossima funzionerà tutto al 100%. Allora... Ma domenica se non è, c'è Turris e Bolitano. E lui ha detto che... S'è domenica prossima, però. Lui ha detto che la Turris è praticamente... Mi auguro che la professionalità dei giocatori della Turris abbia la meglio sull'intenzionalità del proprio presidente. E ha detto tutto, praticamente. Ok, è inutile andare avanti. Allora, perché le siciliane non stanno rendendo? Abbiamo sempre temuto, le siciliane, le siciliane. Anche perché là qualche sonvenzione dalla regione l'hanno. Ti ho detto, occhio al Nissa. Perché Nissa, sì, ieri ha parlato... Sì, vabbè, però c'è dei tre contro uno, insomma. Sì, vabbè, la delusione del Messina è stata... La delusione del Messina, soprattutto per quanto hanno confezionato, è quello che hanno fatto. Mi auguro per Messina. Io ho lavorato a Messina, sono stati dieci mesi stupendi. Allora eravamo in Serie B, con la famiglia Franza. Mi auguro che finalmente abbiano trovato una certa tranquillità societaria. Però ciò che è accaduto quest'anno certamente lascia molto, ma molto, ma molto perplessi sulla regolarità del campionato. È un campionato un po' strano il vostro. Molto strano, ma del resto. Strano. Una squadra in più. Il mio primo campionato, sicuramente sarà l'ultimo in questa categoria. Ripeto, l'ho fatto perché soprattutto l'amicizia mi lega alla famiglia Tronco e alla famiglia Verazzo. Ma ti dico, il campionato è veramente... Molto strano per certi aspetti, ma veramente poi affascinante, molto bello, anche perché ci sono almeno sette squadre sullo stesso livello. Io ho sempre detto che questo è il vero campionato di C2. Girone C. Specialmente quest'anno. Soprattutto l'AC veramente è scarsa. Io l'anno scorso ho avuto il piacere e la fortuna di vincere un campionato battendo ogni record, ogni tipo di record con la Juve Stabia. E quindi so bene. Soprattutto contro il Catanzaro di Auteri, ma contro la corazzata dell'Atletico Roma. E so cosa significa vincere i campionati. Certo. Perché ho avuto la fortuna di vincere anche qualcun altro, in categoria maggiore. Allora, durante l'estate, chi mi teniva informato sulla casertana era lui, Antonio Antonio. Allora, Antonio. Se facciamo un attimo un riassunto di quello che è successo a Caserta quest'anno. Sì, fino ad arrivare a Pavarello. Esattamente. È successo, sì, vabbè, è successo. No, è giusto, è veloce. Allora, questo riassunto, se lo possiamo fare un attimo, è per dare i meriti a loro, perché hanno costruito una squadra. Guardate, mi stendo in covation per Cavani, che sta uscendo a pochi minuti alla fine. È giusto che dovremmo alzarci in piedi anche noi, come i tifosi del Raffoli. Allora, dicevo, questo per dare i meriti a loro, quello che hanno fatto, hanno costruito praticamente una squadra in due giorni. Saltata la trattativa che c'era con Dimash, o l'ultima trattativa prima che la prendesse, che prendesse la casertana Verrazzo, non esisteva niente. Gli ultimi due o tre giorni di calciomercato hanno costruito una squadra, infatti io li ho seguiti direttamente in prima persona e veramente hanno fatto un miracolo. Il mio, diciamo, la mia perplessità era per il fatto che non avessero fatto preparazione, però con la scelta di Mister Cioffi, con la scelta stessa di Pavarese, è stata comunque una garanzia assoluta di una grande squadra. I calciatori poi a Caserta, parliamoci chiaro, un po' come a Napoli, adesso vengono, sono calciatori che in queste serie vengono sicuramente... Ma la garanzia è che ci pavarese, dai! Per cui, diciamo, hanno fatto un miracolo. Io veramente, noi lo dicemmo, la prima volta che io veni qua, disse, guarda Mario, per me a Caserta hanno fatto un miracolo quest'anno, veramente un miracolo. Al di là, diciamo, una domanda mi doppico al direttore che sta qua e penso che anche i tifosi di Caserta vogliono sapere, no? Lui ha dichiarato che vinceranno il campionato e io ci credo perché se lo dice lui... L'importante è che ci lasciano lavorare con tranquillità e che soprattutto non alimentino così tensioni per cercare di colpire l'interno dello spogliatore. Io ho sempre costruito spogliatori importanti, questo forse è il migliore che ho costruito, è composto da uomini veri e sono certo che non ci faremo assolutamente così... Volevo finire però, direttore, la domanda... Lasciarci così toccare da pseudopolemiche messe proprio così ad arte. Ma perché sanno che la Caserta è forte nel campo e quindi... Noi siamo forti soprattutto perché siamo un gruppo unito, questa è la vera forza di questa squadra, siamo un gruppo compatto, composto da uomini veri, che siamo determinati a raggiungere l'obiettivo prefissato. Allora, riguardo... Questa è la nostra vera forza. Se poi vogliamo parlare tecnicamente, vogliamo parlare di calcio, beh, devo dire che qualcuno ha fatto molto meglio di noi, anche perché poi ha avuto più tempo rispetto a noi. No, io volevo farle un'altra domanda, cioè, al di là che penso che vincerete il campionato... La ringrazio. Quindi, Caserta è una grande piazza come tifoseria, quindi ha bisogno, diciamo, del calcio vero. In questo progetto, se vincerete il campionato, ci sarà un... Cioè, Gigi Pavarei sarà ancora il direttore della Casertane, ci sarà un... Io amo molto Liga Bue. C'è una canzone nell'ultimo album che dice... Quella che ci sei sempre stata. Che dice... Il futuro è lungo da vedere, tu lo vedi prima, me lo dici, vuoi che mi prepari. Questo è lungo da venire, il futuro. Adesso noi dobbiamo vivere la giornata ed essere concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Una volta vinto il campionato... Perché, chiaramente, questa domanda era perché la Casertana, probabilmente con lei, diventerà una grande... Allora, guardi, la Casertana... La forza di Casertana, la Casertana, si chiama Francesco Verazzo. Ebbè, è chiaro, la proprietà è una garanzia. Un testardo, un testardo, ma soprattutto un uomo, un uomo vero. Non lo dico perché io non assolutamente non... Domani probabilmente mi pagherà il caffè il Presidente, per il mio Dio. Senti, Gigi... Mi dico, la vera forza della Casertana si chiama Francesco Verazzo. Gigi, la vera forza della Sibilla Bagoli è Donato Pozziello. No, 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 attenzione... La competenza di Donato Pozziello. C'è la famiglia Luci... No, per l'amor del cielo, onore... Non dobbiamo togliere merito a chi per anni ha fatto calcio e fa calcio. Allora, tu quest'anno sei proprio il vero direttore della... No, direttore no, perché non mi voglio prendere i merdi di chi fa il direttore. Io sono dirigente e chiaramente qualche consiglio... Qualche consiglio, capirai? Qualche calciatore è arrivato anche per merito mio, non voglio... Eh, scusate, hai detto niente. Ognuno si prende i propri meriti. Non si prende i propri meriti, però... Per l'amor del cielo, la Sibilla Bagoli è una grande società, anzi è una grande proprietà, per l'amor del cielo si figura... Però quando c'è un competente... Tu come hai detto prima con Pavarese? Pavarese ha detto no, il Presidente, ha detto sì, però ci vogliono anche gli uomini giusti. Certo. Manca a parlare a cosa... Ma diciamo che, poiché questo lo voglio dire, perché sono nella Sibilla molti calciatori che io ho tenuto a Giuliano, verrebbero a piedi con me. Vabbè, sei un grande signore, questo lo so chiaramente. Cioè, Massimo Perna che sta a Trevisa voleva venire con la Sibilla, poi è chiaro, poi bisogna anche vedere discorso economico, perché noi siamo uno che non fa tante pazzie per i calciatori, quindi siamo abbastanza pulati, quindi a dirà poi che verrebbero tutti, poi bisogna vedere un attimo chi è possibile portare. Una cosa è certa, quando seppero che lui sarebbe andato via da Cava dei Tireni, e non a caso la Cavese sta nei guai più neri, e sarebbe andata alla Sibilla Bacoli, non ha ragione ci doveva essere. È una situazione, diciamo, a Cava dei Tireni, io penso a parti tifosi che hanno salvato la Cavese ed è merito esclusivamente loro, dopodiché poi c'è stato un folle, un pazzo, che si chiama Peppino Spagola, dove è voluto andare a Capezzale, che nonostante tutto quello che sta facendo non farà economicamente quello che io, non basteranno mai i soldi, io mi auguro che si salverà sul terreno di gioco, perché comunque hanno fatto cose, egregia, ecco, una squadra che il mese di agosto non poteva andare in campo perché i giocatori non erano tesserati, si allenavano ma non erano tesserati, non si potevano tesserare, i primi andati da Beretti, i risultati, nonostante i sei punti, insomma, potevano stare al centro classico. Adesso avrà qualche altro punto però di penalizzazione. L'hanno preso, un altro l'hanno preso, uno l'hanno preso, c'è ancora, c'è ancora un altro, altri due, bisogna maturarli poi i punti. Perché sono andato io, perché la situazione economica non era quella che è stata prospettata. Appunto, vedi, allora scusatemi, la situazione economica della Sibilla era molto, molto più grave. L'anno scorso è retrocessa, ha fatto molto, quindi è arrivato lei e ora siamo terzi. Scusatemi, lui ha detto siamo, hai visto? No vabbè, siamo, nel senso che siamo quasi come canzoni, è entrato nella famiglia. Ma ognuno è girato la classifica al direttore. Te la senti tu o te la senti a furia di seguirla tutta? A dimostrazione del fatto che comunque a Caserta i calciatori vengono c'è l'operazione Capparella fatta, fatta in maniera magistrale. A Bacoli vanno anche, anche perché c'è Donato Colsello, a Caserta vanno anche. C'è stata Capparella l'ultima operazione, perfetto. Ci vogliono persone di un certo spessore tecnico e non solo, personale, per poter avere il meglio da quella serie. Io così la penso e così la penserò sempre. Andiamo, Ada, dovrebbe arrivare a questo punto. Sì, ma dovevi sentire qualcosa perché chiaramente... Guardate, scusatemi, hai visto il mio... Perché non sta funzionando questi monito. Mi fate rivedere il logo che io ho tanto... Il titolo che hai visto. Il titolo grafico che ho tanto sudato per farlo. Me lo rimettete per cortesia perché non lo riesco a vedere qua perché il monito non mi è spento. Ecco il cammino, eccolo qua. Questo rappresenta il... Il falchetto, il falchetto. Questo è il falchetto, attenzione. Questo è il falchetto, non confondiamo. Il quale spinge la palla verso la torre della Turris ed entra nella porta della Turris. Questo voleva... Questo voleva... Però per ricordarti che non ci seguono soltanto in campagna, come tu ben sai. Certo. Ci hanno scritto, innanzitutto il Gaeta mi piegherà tutte. Chi? Il Gaeta mi piegherà tutte. Mi piegherà tutte. Mi piegherà tutte. Rispetto... Riguardo alle squadre, no? È chiaro. Questo è un tifoso dei Gaeta. E va. Ma scusate. Ok, hanno letto. Va bene. I tifosi devono esprimere la loro idea. E poi qua dice... Rispetto per Eboli, la squadra più forte. Non è bene. Però...